eccoci qua in posti veramente sconosciuti sperduti alla ricerca di qualche pesce mi fa bene anche la panoramica almeno voi capite in dove sono e ci venite a pescare e guardate in che tempo sono eh bello guardate temporalone in arrivo no temporale no perché ora l'inverno non gli fa ma vediamo noi vediamo che si prende lo che ha fatto un barbante faccio a vedere il barbante invernale del febbraio 2023 eccolo ha già accaduto come si può ben vedere ragazzi ma frattetto figlio non so chi tiene perci meglio in mano si mette proprio a girarlo bravo eccolo qui il barbotto barbotto il barbottissimo baffino da bellino divertente questi ancora si levano guardavo se l'era a posto con la librea che c'è mia alla di faiolina dai il nasino io non le porto le nasse tuttavia sei un uomo vero un uomo vero che non ha bisogno della nasa ma andò tu vai per buttare il barbo dentro te e il barbo fuori ha visto dove andava? c'aveva una frizione chiusa è andata sotto l'albero e ricordati sotto l'albero c'è anche regali io c'ho un lotto perché voglio pescare con lotto ti rende la tv dai? non vieni un pescoglio dietro no 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 A presto insomma s'hanno fatto un bel culo è stamani stamani mi hanno rimesso il tubo dentro prima me l'hanno levato e mi hanno rimesso te l'hanno rintubato e mi hanno fregato perché non credevo ma guarda che casino sotto l'ombretto è davvero aspetta qui e continua a esserci un attimino sposta la rifaiola tutta la fuori guarda è la roba vai te lo buttava via la rifaiola bello però queste sono le cose belle quando non te l'aspetti lo prendono in culo perché galleggiantino ci serve un galleggiantone perché noi da quest'isola non si va più via io ce l'ho voglio dire capino e si muore e si muore guarda che l'avevo aspetto di inverno si è preso l'acqua l'inverno bene anche piova io quando vedo piovere non sento un tempo non mi andosi a peschetto vai è bello è finito avrino ah bene vai allora c'è il sole ma è bello qui come arriva l'acqua va via l'acqua ma il vento è sempre costante e quindi c'è anche il vento vai una carpa o un barbone o con il vento non è una carpa una carpa secca ma un po più guarda quella di tutto solo noi si può fare queste cose belle vista ma tu l'hai disintegrava eh no e l'ho disintegrava l'elena mi sta disintegrando a me l'ha visto l'alberino ora vediamo poi queste hanno una forza un sommiele di lago eh un po' via via io eh no non si stanca e non si stanca morto ma è morta e la sana anche morta ma ora vada e animale guardate i colori i colori spettacolari del pesce rotante bellissimo carpa lunga bella c'è un giallo un arancione spettacolare la bocchina è bellissima da bibas veramente il vento la carpa ventosa ma dove stai riprendendo riprendo anche lei dottore non mi rompa i coglioni ma lei è veramente un cinematografo fatto io sono un cinema più che altro ti fai il riflessino sull'isolo il rilascio più brutto del mondo con la tempesta ripiove un'altra volta dopo la tempesta uraganica prima ci ha provato l'acqua che ci ha fatto smettere poi il vento no perché ora no e poi il filo il filo del tentale no venna ora siccome non si pesca anche il vento è ritornata l'acqua allora io mangio la maiala mangia la maiala ma che te l'aveva legato un baccalà c'è le rischie ma che tu mangi la filo ma non lo so comunque finì anche oggi eh oggi è stata bellezza bellezza acqua vento lenz e quante lenz e pezzi ho perso due lenz e due lenz e te una o due anche te due lenz e chiaramente per la legge di due anche due pesci presi anche due pesci persi vai andiamo perso tutto saluta saluta ciao ragazzi alla prossima ciao ciao con meno vento con meno vento che sta un po' rotto coglioni il vento giù ha buttato giù un albero e noi siamo a pescare vorrei guardate il lavoro spettacolo e noi siamo a pescare e noi siamo a pescare hard e noi siamo a pescare